What is it? L'Italia è la patria della bellezza. Sta nel croggiuolo della civiltà, esattamente al centro, il Mediterraneo, è dove è nata la civiltà. Sono 22 popoli così diversi tra di loro e questo rappresenta una condizione di assoluta unicità a livello mondiale. C'è un vero e proprio innamoramento per l'Italia, che poi questa linfa, perché è proprio una linfa, continua quotidianamente ad ispirare i mestieri. Chiaramente in 3.000 anni di storia si sono accumulati i saper fare. Quindi l'Italia è di tutti i paesi al mondo che producono il cosiddetto lusso, o noi lo chiamiamo in Italia alto di gamma, il paese che ha il più elevato numero di settori. Sono più di 10, unico al mondo. E questo deriva proprio dalla naturale propensità a creare bellezza, perché viene spontaneo, perché abbiamo quello come sistema di riferimento, ma anche dal saper fare che permette, mette in condizioni di poter letteralmente fabbricare gli oggetti, anche oggetti che altri non avrebbero la capacità di produrre. Ecco, questa ingegnosità e questo innato senso di rispetto per tutto ciò che è bello e buono, rende l'Italia un potenziale campione del mondo nella sostenibilità. Già lo è su certi fattori fondamentali, come le energie rinnovabili, come il riciclo dei rifiuti, e lo sta diventando sempre più anche sull'innovazione con tecnologie che siano rigenerative, come si suol dire, nel senso che non producono scarti. Grazie. 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 Grazie.